Riqualificata a Torbella Monaca, l'area di via dell'archeologia, dove si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria della strada, realizzati grazie all'impegno del municipio Sesto. Si è proceduto al rifacimento dell'asfalto e della pavimentazione dei marciapiedi. Per la prima volta a Roma si dota delle strisce pedonali a LED. Il sistema è attivo all'incrocio di via Ambaradam-Porta Metronia. L'attraversamento è stato reso più visibile e sicuro con i pannelli luminosi installati direttamente sull'asfalto in corrispondenza delle strisce pedonali. Allo studio il loro utilizzo anche in altri incroci della città. Inaugurati nuovi spazi di terrazza termini, oltre 5.000 metri quadrati con negozi, bar, punti accoglienza, aree attrezzate con wifi e ristoranti. Il Campidoglio intanto sta lavorando ad un grande progetto di riqualificazione di piazza dei 500 con nuove aree pedonali e un collegamento diretto con le terme di Diocleziano e Palazzo Massimo.